Io volevo tranquillizzare tutti coloro che hanno difficoltà motorie e portatori di disabilità. Il progetto di Roiano che sta vedendo la sua ultimazione è completamente a norma, ovvero è perfettamente accessibile da chi ha difficoltà motorie, come ho detto. Nello specifico verrà realizzato con l'appalto che porteremo in approvazione questo mese, in giunta, avrà una rampa di accesso al lato via Moreri dove ci troviamo adesso che permetterà con la pendenza corretta il passaggio di chi è in sedia a rotello e difficoltà motorie e quindi avrà la possibilità da via di Moreri di accedere al giardino sovrastante l'autorimessa che sarà poi un giardino allestito per verde, arbusti, vari e aria giochi. Con un appalto dedicato alla realizzazione di un accesso per i disabili da via Moreri all'allestimento del verde sopra il futuro parcheggio, la giunta comunale risolve il nodo sull'accessibilità agli spazi verdi in divenire nella nuova piazza di Roiano e di qualche settimana fa la polemica è nascata dall'opposizione proprio sull'argomento. Sulle prime, difatti, sembrava non ci fossero opzioni che andassero incontro e diversamente abili per raggiungere il tetto del parcheggio, motivo che aveva fatto scattare la lista russo punto franco. L'intervento odierno della Lodi però cancella la lavagna, evidenziando che è pronto un appalto da 1.550.000 euro che andrà in gara ad ottobre. È un appalto dedicato ovviamente alla finitura, come in questo caso, della strada pedonale e poi tutto l'allestimento del verde. Quindi l'ultimo appalto vale 1.550.000, verrà mandato quindi in gara a ottobre. Con gli uffici abbiamo fatto una riflessione, speriamo quindi di avere il cantiere entro fine anno, avere quindi pronto il tutto per la prossima primavera estate. Ci tengo anche a dire che ovviamente è tutto a norma per quanto riguarda le problematiche relative a disabilità, sia la parte asilo nido che la parte autorimessa, che quindi al suo interno ha l'ascensore a norma, posti in auto per disabili e anche tutti gli attraversamenti pedonali all'interno poi della futura nuova piazza.